Dove sono? Non mi ricordo più niente. Devo solo tirare questo coso e troverò il modo di tornarmene a casa. Ciao ragazzi, io sono Raffaele ed oggi siamo su Raft, un gioco molto simile a te Forest, ma veramente fitissimo. C'è allora, io la prima volta che ho visto questo gioco, c'è bellissimo, l'ho già provato e c'è ragazzi davvero è bellissimo. Quando è molto detto bellissimo. Allora ragazzi, il nostro scopo è quello di costruire una zatterra enorme e tornare a casa. Comunque ragazzi, questo gioco qui ci avrà prima o poi una fine, però il problema è che è ancora in demo. Quando uscirà il gioco completo, potremo fare dei remi, far navigare questa zatterra e così tornare a casa. Ma che cazzo è sta roba? Quanta roba mi ha dato? Ho costruito cose. Praticamente ragazzi, i nostri nemici non sono gli indigeni, ma sono gli squali. Cazzo, che cazzo vuoi? Oh, 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 mi sta distruggendo la zatterra. Devo fare una lancia, prenditi questo. Cazzo. Si può costruire anche una lancia in sto gioco e con quella lancia ti ammozzerò. Bastardo, mi ha distrutto mezza nave. Ok, ho la lancia e ho la canna da pesca. Bene. Perfetto, ho già finito il gioco. Eccolo là. Il bastardo ti metto a pescare. Ecco qua. E tra l'altro, ragazzi, se non sbaglio, si può in qualche modo addomesticare lo squalo. E però il problema è che io non so come si fa. Poi tra l'altro, c'è anche una roba. C'è una roba. Ovvero, posso anche costruire delle scale. Costruisco le scale. Oddio, oddio, che cazzo sono queste robe? Eh, ok, sì. Ah, capottana, mi sono preso un infarto. Muori, merda. Non c'è più sparito? Non c'è più veramente? Cos'è sta roba? Ho piandato cose. Cos'è? Cos'è? Allora, qui, mentre aspetto che cresca, io vedo già una foglia. Vedo se riesco a costruire ancora altre parti. Oh, che cazzo? Cos'è sto coso? Mio Dio, è bellissima questa palma. Ma come prendono le luci di cocco? What? What? Che cazzo sono sti cosi? Prendi, prendi tutto, prendi tutto. Ne facciamo altri. Facciamo altri. Capito a cosa servono. Queste cose fanno per me il cibo. Uh, le patate. Ma io mi cibo stanno di patate. Beh, non rompere perché piando le patate per questo. Dai, 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 dai. A proposito, dov'è lo squalo? Ah, wow. Che cazzo è successo? Mi stavo bugando sotto la mia nave. Forse dovevo stare, rispetto, non dovevo dire bugando. Vabbè, ragazze, ragazze, abbiamo fatto quello che potevamo fare per questo episodio. Io spero che vi sia piaciuto. Se volete il prossimo episodio domani, lasciate un mi piace e noi ci rivediamo nel prossimo video di Raft. Non dico più come si chiamava. Bye! Ok. Adesso posso, posso fare la mia roba. La mia scale. Metto queste qua. Queste qua. Queste qua. Ok. Ok. Adesso, adesso ci metto le scale. Si possono mettere? Ok. Devo mettere prima una tre. Qua. E... 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 Grazie a tutti